In questo video vediamo come personalizzare le curve di livello di un solido topografico. Nelle vecchie versioni di Revit, fino a quando esisteva la superficie topografica, trovavamo qui un tasto per settare l'interasse e lo spazio in cui dovevano essere visualizzate le curve di livello. Ora per il solido topografico dobbiamo selezionarlo, andare in modifica del tipo, in visualizzazione contorno e cliccare su modifica. Di default le curve di livello sono fosse a un intervallo di un metro. Poniamolo ad esempio ad un intervallo di 5 metri e si tratta di curve di livello primarie. Facciamo applica, ok, applica, ok, e vediamo che l'interasse delle curve di livello cambia e diventa ogni 5 metri. Se ritorno all'interno del pannello, torno in modifica, inserisco una nuova suddivisione ogni metro, in questo caso si tratta di curve di livello secondarie. Andiamo su applica, ok, applica, ok, però in questo caso non si distinguono più quelle che sono le curve di livello primarie e quelle che sono le curve di livello secondarie. Quindi andiamo in sostituzione visibilità grafica della planimetria di cantiere, scendiamo in basso e andiamo a cercare la voce solido topografico, entriamo in solido topografico ed impostiamo le curve di livello secondarie, quindi clicchiamo su linea sostituisci e diamo qui un tratteggio e come colore impostiamo un colore grigio. confermiamo con ok, ok, applica, ok e quindi in questo caso abbiamo le curve di livello contenute ogni metro che appaiono di colore grigio e tratteggiato.